Dalle presunte terapie fai-da-te alle false autodichiarazioni. Sono tante, troppe le notizie false che circolano sul Covid-19. Viaggiano attraverso diversi canali, media e social, dove non sempre i gestori delle piattaforme riescono a filtrarle nonostante i tentativi. Molto utilizzato anche WhatsApp. Qui audio di ogni genere vengono condivisi senza alcuna verifica da parte degli utenti. Non solo, l'eccesso di informazioni crea molta confusione, a volte anche allarmismi, e non aiuta i cittadini a comprendere ciò che sta accadendo. Si finisce così per abbracciare le versioni che si ritengono più convincenti. La disinformazione, però, è sempre da combattere perché può indurre le persone ad adottare comportamenti non corretti. Quando poi questo accade in un ambito delicato come quello della salute, le conseguenze possono essere ancora più gravi. La situazione di certo non è semplice, ma richiede uno sforzo maggiore da parte di tutti. In che modo? Innanzitutto è necessario affidarsi ai fatti e ai dati riportati dagli esperti e dalla scienza, titolati a parlarci di questo nuovo coronavirus. Nel frattempo, oltre alle campagne di comunicazione, prosegue l'attività del Ministero della Salute per scovare le fake news e riportarle sul sito salute.gov.it. Cinque sono le bufale smentite questa settimana. La prima, bere alcol rinforza al sistema immunitario e mi protegge dal virus. Falso, il consumo di alcol non protegge da covid-19 e non impedisce di essere infettati. Al contrario, il rischio di infezione è maggiore perché l'alcol indebolisce il sistema immunitario e quindi riduce la capacità dell'organismo di fronteggiare le malattie infettive. La seconda, applicare la vasellina intorno alle narici intrappola il virus così non entra nel naso. Anche questa notizia è falsa. Non ci sono prove che il virus resti intrappolato dalla vasellina. Per evitare il contagio è necessario rispettare le distanze di sicurezza e non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non lavate o disinfettate. Terza bufala. Mangiare carboidrati come pane e pasta aumenta il rischio di contrarre l'infezione. Anche qui non ci sono evidenze scientifiche che il consumo di carboidrati esponga maggiormente all'infezione. Un'alimentazione bilanciata è comunque importante per il benessere di ogni individuo e la prevenzione di molte malattie. Si è detto poi che respirare aria calda dall'asciugacapelli elimina il virus dalla gola per chi con il caldo muore. Falsa anche questa informazione. Infatti l'aria del FON non può raggiungere le elevate temperature a cui il virus muore. Si otterrebbe solamente un'irritazione delle mucose e si rischierebbero ustioni. L'ultima fake news riguarda invece l'argento colloidale, un disinfettante che proteggerebbe dal covid. Al momento non esiste alcuno studio scientifico che provi l'effetto protettivo di questo composto liquido nei confronti del virus. E' quindi bene tenere presente che le uniche notizie certe e attendibili in materia vadano cercate sui siti istituzionali come l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non resta che informarsi sulla veridicità delle notizie per evitare che si propaghino creando inutili ansie, fantomatiche rassicurazioni o ancora peggio, ulteriori problemi di salute.